Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di RetroCraft in compagnia di Ulisse Ciao 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 Esatto, che è il nostro coinquilino nella serie praticamente Allora vi spiego ragazzi come funziona questa serie Lui mi ha chiesto di vivere con me, l'ho accettato dopo Un anno di fidanzamento Che critica Allora comunque abbiamo recuperato un po' di bistecche nel mentre che non stavamo registrando E come vedete ci sono un po' di buchi in giro ma non so il perché, fa nulla Qualcuno avrà fatto scodere qualcosa Allora tieni un po' di bistecche, anzi no vuoi giù di polli, di polli è vero Ok e adesso mi dai delle torce vero perché sei carina e coccoloso Perché la posso craftare No no dammi del coal Poi vado in giro Ho fatto esattamente le torce, va bene Allora Io chilo le pecone Mi faccio una crafting table che non si sa mai Fammi i letti sopra, io inizio a scendere giù e vediamo cosa riesco a trovare in giro Visto che voglio andare un po' a vedere se riesco a trovare dei minerali della red power Così da trovare un po' di roba Oh qui c'è il marble Ottimo E c'è anche un po' di bellissimo copper Peccora morta Yeeeh Peccora morta Comunque per quanto riguarda il mod Perché ho visto molti hanno chiesto Però non so se Luke lo vorrà farli lasciare Però boh vedremo Se lo lascerà vi spiegherò come installarlo Perché è un po' complicato Ma non è complesso però è un attimo tattica come cosa Esatto Allora questa marble la lasciamo Però se vuoi prenderla puoi più avanti E vuoi farci la casetta Era bella idea Sì ma è buona solo per le colonne la marble in definitiva No beh dipende In questa versione non è che ci sia tanto di marble Però vabbè Comunque è sempre marble Io vado da prendere legno Facevo picchi altro il pavimento con la marble Infatti è che provo ad alzarti un attimo il volume Non so se si sente molto basso Ma no è che avevo io la voce bassa No no aspetta no Perché molte volte nella registrazione si sente un po' bassa Quindi Ah no voi già sentite Io già mi sei alzato io Sì ti ho a 7 Dai c'è bello che ottio Ho la voce così bassa davvero Basta Come è semplice basso Negli settidane ci bevi in più Stai scherzando Appunto c'ho la voce così bassa ho detto No no è nel video le mie cuffie Fanno altissime Oddio è il vecchio La vecchia apatite davvero che bella cosa Ricordo con la nuova che adesso ti da un sacco di exp Tipo 4 o 5 stack di apatite Basta Ho un po' di legno io Abbiamo trovato una caverna con tanto marvole Questo è sicuro Però non va da nessuna parte E io vengo a farti compagnia ora Ah bello che non va da nessuna parte Tipo Si ferma Sì ok c'è un po' di roba Che cosa è morto? Ho sentito qualcuno che si faceva lava per terra Non ero io di sicuro Vabbè Sarà qualcuno che Ha fatto un giro e vuole morire E se non l'ho capito male sei sceso dove c'è il marble Quindi per forza di qua occhio Eh no da che parte sei sceso perché ci sono due marble Niente comunque non c'è nulla adesso qua Non so se tipo scendendo Ah ok ho trovato un'altra caverna scendendo Ah sei sceso di tu Non hai preso del ferro importante all'inizio Ah non l'ho visto sai Allora qui c'è del ferro Ho trovato anche qualche blocco di Eh come si chiama rubino Sì rubino No aspetta cosa deve essere il zaffiro No Uno verde cos'è o non mi ricordo Smeraldo Eh no Ma una volta non si chiamavano Aspetta non si chiamavano mica red Sapphire eccetera vero No no non si chiamavano così perché poi Quando l'ha giunta dello smeraldo Non ho chiamato È vero sì Il coso così Aspetta in che marble sei andato praticamente Allora adesso devi andare sulla parte di destra Non sai dove hai fatto spiaccicare una pecorella Lì sono io Parte di destra Allora qui c'è della roba Questo non posso prenderlo Presumvero No non posso prenderlo Solo sta marble qua sinceramente Eh allora adesso arrivo subito Allora davvero all'entrata Vabbè insomma Tanto andiamo a dormire più che altre notte Eh vieni qui sotto Andiamo qui sotto a dormire perché è più figo Va beh prendo la roba che c'è Abbiamo lasciato all'esterno Allora no Ok Ti faccio un attimo una crafting table C'è una crafting table scusa Una fornace Che bello che adesso si è scritto MC Quanto vale Allora Cuociamo del ferro 3 di ferro Cuociamo un po' di ferro Allora Dammi tipo Non so se darmi le coordinate Qualcosa Fai qualcosa Eh non lo so Ti spiego Arrivo subito Arrivo subito Ah qui c'è del col Aspetta Facciamo così facciamo E muori pollo Hai idea di un po' di legna L'hai recuperata? Sì Forse Aspetta fermo Falta se ti ho visto Però non so da dove si entra Ah qui c'è altro copper Aspetta eh Falta Ah ok ho capito Sei andato da di qua praticamente Esatto All'altra parte Perché sono due parti di marble Vieni questo Allora vieni qua Aspetta aspetta che sto recuperando un po' di capo Mi ha rotto il letto Ah grazie Ok andiamo 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 Ok Ok Sì 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 Yeah Yeah Siamo di trovare i creeper Assassini che si vogliono stuprare In ogni secondo Ah ma è trovato già un'altra caverna Oh c'è dell'uranio di là Però è vero del ferro Spero del ferro Allora Nel momento Vuoi dormire un attimo Prima di tutto Vieni qua Sì sì Dove sei 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 Un po' più All'altro Così Di qua No 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 scusa Metti così Ma così Mettilo qua di là Non mi spingere In questo senso Ah è vero Così si potesse Vai Vai Eh ok Deve disoccupier Ma sei scemo Vabbè Capita Ah perché un po' Lo mi ha spostato Che cavolo Il po' È Vulo No davvero Sì mi ricordo Tipo che nelle vecchie versioni Un po' Lo ti spostava No Cioè dimmi che se tu Premi shift Ti toccava per forza Mettere il blocco dietro In ste versioni Sì cozzo No Ah È presente che se tu Tipo shifti Non mi ha preso il ferro Dove la mossa Non cadi No Se tu premi shift Guarda vieni qua Se tu miri su una fornace Se tu premi shift Adesso ti piazza il blocco di fianco No Invece in quelle versioni No Cazzo Ah boh Hai già un picchietto in ferro Eh no però C'è un po' di ferro Cotto Doveva stare guidando Ok Te l'ho messo Un po' Anch'io Ok dov'è Quanto ferro hai preso Dentro la fornace Ce n'è un blocchetto E il resto cucina Eh ok mi dai per for Ah ecco qua Allora dov'è La copper che è essenziale Eh hai un po' di legna Che facciamo una cesta Perché se no Ah ho preso l'altro Copper ore Tra l'altro Oddio Dove sei? Due tipi no Non penso Sì sì Eh sì Eh sì Eh sì Eh no Copper ore Copper ore Ah ok allora Ci sono dei tipi Esenzialmente non me la ricordo Sta cosa Perché se me la ce ne fosse Uno sono Ma sono No 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 Ti spiego C'è uno della bullcraft E uno delle c2 Normale Allora Ah una palla in ferro Non so come l'ho ricevuta Ma vabbè Eh te l'ho data io Perché me l'aveva troppata Uno zombie prima Ah wow Allora Questi li teniamo Questo lo leviamo Eh il ferro ce lo teniamo Allora vediamo un attimo Ho fatto un po' di questi Facciamo un piccone E vado a recuperare subito Quella cosa verde Perché il quale è più figa Rispetto a un piccone di ferro normale Ah è vero Io prendo la copper Intanto il copper Anzi La copper La copper No perché mi viene da dire la copper Perché c'è un mio amico Che diceva la copper Allora Mi è venuto ormai da dire la copper Vabbè la copper sei tu La copper sei tu La copper sei tu Ok Ok Facciamo una scalata Così posso sottolineare Ok Facciamo in questo modo Ok Uno Eh vabbè che schifo Uno l'ho recuperato Uh c'era altro rubino Che non hai visto qua sotto Nascosto Eh boh se ne trovi PD6 No PD3 Sarebbe ideale Abbastanza Allora siamo a due Ce n'era l'altro là in fondo Quindi sono a tre giusti Precisamente Vedete se ci sono i backpack Qui dentro Ah ma in teoria non c'è il backpack Però c'è la L'alchemical bag La chest Che è una cosa epica Oddio l'alchemical bag Cavolo bellissimo La copper è dust Eh anche l'alchemical chest Ti porta a craftare una cosa Ah a proposito A proposito Sai che non devo fare una cosa fantastica Che ci siamo dimenticati di fare Eh Dobbiamo farci Allora Le dust Ok Le polveri si La covalent dust Che si fa con coal Che ti ripare i picconi Oltre che ti ripare i picconi Tipo ti fa trovare anche La roba Io so che quella Ci ho fatto un sacco di livelli Nelle ultime versioni Ah mi sa che era Couch call Giusto Eh vabbè Couch call ci serve Come facciamo fare couch call Beh Andiamo a prendere un po' di legno Eh vabbè Ma hai bisogno dell'agnon Grezzo Quindi non so se ce l'hai Eh infatti No Ma ha tirato una lagata sulla me o cosa No Solo te Cosa su Ah no perché ho rotto due blocchi Tipo me la sfaccati dopo Vabbè Vabbè Sì sì Yeah Boom Ok Allora Non in caso Dove stai andando? Eh Sto andando sempre più in là Sto guardando un po' cosa c'è Ah no Widget Dall'altra parte Si è andato Ok Sì perché ho visto Adesso sto prendendo i rubini Ok Lui prende i rubini Ci ruba insomma Perché Tra l'altro con la E Praticamente Con tutto quello che abbiamo raccolto Ci basta un diamante Ce ne facciamo già Sei volendo Più o meno Più o meno Anche di più Per capire quanto è potente Le due Infatti era Una tra le più odiate E amate allo stesso tempo Beh Dipende da l'utilizzo Di Pintory Perché comunque È bella Però È utile Le claim star Sono sempre piene Con quella mod Eh sì Le claim star Ricordo Che bella figata Quando ti mettevi lì Tranquillo Fare la claim star Senza problemi Dai pollo via da qui Che c'è il copper Ah è nato anche un polletto Tra l'altro Che ho tirato un uovo a casa Ma sai cosa non abbiamo Però Hanno preso tutto Lui e gli altri La gomma Ah no Io ho 4 alberi di gomma Perché l'hanno lasciati lì Ok Quindi Poi ce l'abbiamo un po' Non so quanto però Ci convenga Dobbiamo scappare sempre Perché in teoria Potremmo anche Cioè non sempre fare Dei episodi di scavo Sì sì Ma logica Perché all'inizio Devi farti un po' di roba Eh bene È normale Allora però io Salirei su A prendere un po' Dicolo Dell'albero Aspetta Si facciamo il cerchio Eh dimmi cos'è Sblocca Eh tieni la palla Dove la palla No mi faccio da dentro Allora lasciata Facciata qui dentro Mi so Si no non è qui dentro Non so No qua No Ho sono accorto Eh quanti rovini hai preso Eh su tutti là dentro 5 5 Ok ne faccio Quando ne faccio un piccolo E non 8 Tanto scavo Faccio una schedetta Scavo anche in mezzo Ho trovato un po' di minerali Ma sempre comodo Allora perché vai a scheda così Guarda che qui c'era Una parte in cui c'era a scaletto Vabbè Che arriva prima insomma Siamo così Sì ma è che c'è un sacco di copper qui Vabbè ma il copper lo trovi ovunque Non è la versione nuova di minecraft Che di venire fatta a livello 40 Non lo trovi dopo Effettivamente Allora qua siamo usciti finalmente Dallo spawn Allora dovrebbe essere l'albero lì Ok ci sono delle birche Che dici riempiamo le birche Le portiamo a elle Esatto Molto presto lo faremo ragazzi Tan 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 Allora Era una minaccia Era una minaccia Può darsi Era una minaccia Sì 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 Se non mi spiega la minaccia Ok Devo capire come fare la scaletta qua Non si conviene fare così Ok La palla è stata una salvezza praticamente Lo zombie lo ringraziamo Allora Allora Sei su già a te vero Io ho comprato un po' di legna Me sto ricoprendo un pochetto E poi finisco l'episodio Perché siamo già qui in 12 minuti Io non già ne faccio 15 minuti Non più di tanto Sì 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 Anche Facciamo la palla Che cazzo sto usando le mani Per scavare Tranquillamente E copriamo qualche materiale Anzi no Io mi fermerò fra adesso Però penso Ci pomeriggio riscaverò un pochetto Idem Allora Andiamo qua Devo scendere Giù dove scendere In frattempo io però Voglio fare quella cosa Che mi trovare minerali E' vede che cos'era lo stico E' vede che cos'era lo stico E' vede che vado in grado E' vado in grado E' vado con il mio nome Quindi Mettiamo a cuocere una Una di questo Allora qui sopra Questo qua Dovrei avere dell'animo grazio Ottimo Ottimo Poi mi si dirà Vabbè Non posso fare l'altro Perché non abbiamo della Della Reston O non so se tu l'hai trovato Della Reston Direi di no Però forse c'è qualche crafting Redstone No 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 Solo cucinarla Carte che Vabbè Cucinarla Deve cucinare il blocco grezzo Ah ok Allora Covalent Dust Eccola qua ragazzi Allora facciamo così Facciamo Con un bastoncino Ah aspetta no Era bastoncini Tutti intorno Vero si No c'era un bastoncino Allora covalent Mezzo Poi devi fare anche L'altra Dust Quella che si fa Con la Reston Era al contrario Si faceva Si la so Vabbè Non abbiamo la Reston Quindi non possiamo farlo là Adesso Ti faccio uno anche a te Si vabbè Dai se hai la roba Per farlo Si tanto La Covalent Dust Ne da 40 E' vero Si tende a 40 Ogni crafting Allora questa qua Allora vi spiego Per chi non lo sapesse Puntando verso un blocco Si cambia anche la modalità Per chi la c No aspetta Era la b No vabbè no Comunque praticamente Fa una media Del valore Di em si Cioè quanto valgono Per una Per la e Fa una media Dei valori Che hanno i blocchi Punta La versione che abbiamo adesso Quella verde Che era la più scrausa Ti dice solamente Si fa solo tre blocchi Quanto Quanto è distante Cioè non ti dice nemmeno Quanto è distante Ti dice Il valore Vai avanti Che troverai quello Basta Oh Maiale che mi spinge Vabbè Ho visto un 5 Io finirei qua l'episodio Vi ringrazio Per questo secondo episodio Andremo un po' a scavare E Cerchiamo di fare anche La remaining road Nel prossimo episodio Cioè Migliorarla Anche col diamante Vi salutiamo per questo episodio E al prossimo episodio Ciao 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 a tutti